Un cordiale saluto dalla redazione di Arizzo TV e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di San Polo. Ho difeso la mia famiglia ma me ne pointirò per tutta la vita. Così Sandro Mugnai nelle poche parole rilasciate alla nostra inviata Chiara Sadotti a pochi giorni dalla sua scarcerazione. Vediamo il servizio. Purtroppo il problema c'è stato. Io ho toccato fare questa cosa e mi sento più a per tutta la vita. Più avanti in qualche modo parlerò, insomma, ora io non me la sento di parlare. Non se la sente di parlare, è ancora troppo turbato. I fantasmi di quella terribile notte non hanno infatti ancora abbandonato Sandro Mugnai, il 53enne Aretino, che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio ha ucciso a colpi di fucile il vicino, che con una ruspa stava tentando di abbattere la sua casa. Alla base del gesto ci sarebbero state liti tra vicini, una situazione che sarebbe andata avanti da anni. Per il fabbro di San Polo le manette erano scattate la notte stessa. Il GIP del Tribunale di Arezzo, Giulia Soldini, lo aveva poi scarcerato dopo tre giorni, perché non sostistono gli elementi per la custodia cautelare. La vittima, Gesim Dodoli, 59enne albanese, imprenditore edile, quella notte a bordo dell'escavatore, prima aveva travolto quattro auto parcheggiate davanti al casolare, poi aveva cominciato a colpire la facciata della casa, per poi distruggere ingresso e finestra oltre al tetto che stava cedendo sotto i colpi del mezzo. Io difeso la famiglia, ma anche se è fatto questa cosa, poi ci si sente questa persona, è sempre possibile. A quel punto Mugnai dalla finestra avrebbe sparato un primo colpo d'avvertimento a terra, un gesto intimidatorio che però non ha avuto alcun effetto, quindi altri quattro colpi che avevano freddato l'uomo. Secondo il giudice, almeno soggettivamente, ci sarebbe stato dunque il rischio imminente di vita, per se stesso e la sua famiglia, elemento che ha fatto scattare la legittima difesa. Il prossimo 13 gennaio, infine, sarà conferito l'incarico al medico legale, che si occuperà di eseguire l'esame autoptico sulla salma del 59enne. Vertice al Viminale oggi dopo la guerriglia tra gli Ultras di Roma e Napoli, avvenuta domenica lungo l'autostrada A1 all'altezza di Arezzo. Dopo la scarcerazione dei tifosi potrebbero essere prese in considerazione misure più ferree. Di sicuro, afferma il ministro Piantedosi, ci saranno tanti d'aspo. Ci ricostruisce tutto nel servizio Greta Settimelli. Massima severità nelle sanzioni contro le tifoserie violente, questo all'orientamento del Viminale dopo gli scontri tra Ultras del Napoli e della Roma in A1. Una stretta da attuare con le norme già esistenti e non ricorrendo a nuovi interventi legislativi. Negli ultimi quattro anni è stato sottolineato nel Vertice proprio al Ministero dell'Interno. I dati sugli incidenti legati alle manifestazioni sportive sono positivi, non si sono verificati fatti gravi negli stadi. Quindi si è posto l'accento sul carattere strategico delle nuove tecnologie per individuare i responsabili delle condotte violente. Quello di oggi, evidenzia il Ministero, è stato un primo incontro. Ne seguiranno altri e il confronto con il mondo sportivo sarà costante. Sul fronte delle misure restrittive, nei confronti delle tifoserie violente, saranno prese decisioni da parte dell'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive fino ad arrivare a vietare la trasferta. Quanto alla mancata convalida degli arresti in flagranza differita di alcuni tifosi, nelle valutazioni del Viminale le eventuali responsabilità di violenze potranno essere accertate anche senza l'arresto prima del processo. Per i protagonisti dei fatti lungo l'autosore scatteranno comunque i daspo. Ancora cronaca e ancora un incidente stradale a Castiglion Fiorentino è accaduto questa mattina in via Palazzuolo, strada parallela alla regionale 71 che taglia in due la cittadina della Valdichiana. Nel sinistro è rimasta coinvolta e ferita una giovane che era alla guida di una Fiat 500 bianca che si è ribaltata dopo un violento urto nelle vicinanze dell'incrocio regolato da impianto semaforico tra via del Palazzuolo e la 71. La giovane non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale Castiglionese, i vigili del fuoco del comando Aretino e i sanitari dell'emergenza Urgenza con un'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino. A causa dell'incidente ci sono stati dei rallentamenti. E torniamo a parlare della vicenda delle due mamme di Anghiari e della loro battaglia legale. Sono una, quella che ha partorito i bambini e è stata riconosciuta giuridicamente genitore. L'altra, senza i cui ovociti i bambini non sarebbero potuti nascere, non è presente nei loro documenti. Presentato oggi un nuovo ricorso. Vediamo. Non si arrendono le due mamme di Anghiari. Dopo aver tentato anche la strada dell'appello al governo Meloni, adesso presentano un ricorso al Tribunale dei Minori di Firenze. La coppia, unita civilmente a novembre, si era infatti vista respingere in prima battuta il ricorso che chiedeva allo Stato il riconoscimento della doppia genitorialità come madri per i loro due gemellini nati a giugno all'ospedale San Donato di Arezzo grazie alla fecondazione assistita in Spagna. La madre genetica dei bimbi nati dai suoi ovociti fecondati in vitro e trasferiti nell'utero della compagna non è mai però stata riconosciuta come tale. Dopo il no del Tribunale di Arezzo, la coppia si era anche rivolta con una lettera ai Presidenti di Camera e Senato chiedendo un'azione legislativa per sanare delle criticità che si creano in questo delicato ambito. Infine, la decisione di depositare il ricorso per l'adozione in casi particolari al Tribunale dei Minori. Il legale Ramona Morri ha portato così la richiesta a Firenze. Nel ricorso viene sottolineato il paradosso di questa situazione che si è creata a causa di un vuoto normativo. Nonostante il proprio stato di madre genetica, si legge, la ricorrente è ad oggi priva di qualsivoglia posizione stato giuridico nei confronti dei figli che sono suoi. Allo stesso tempo viene posta l'attenzione del Tribunale che i due bambini risultano privi di uno dei due genitori paradossalmente proprio quello senza il quale nemmeno sarebbero potuti nascere. Adesso il Tribunale dei Minori dovrà fissare un'udienza in cui le due donne potrebbero essere sentite. E c'è stato ancora un caso di reddito di cittadinanza percepito illecitamente. Si tratta di un trentenne di origini nigeriane che avrebbe fornito false attestazioni circa i suoi dati personali nelle domande presentate all'Inps, riuscendo così a percepire per oltre un anno il reddito. In particolare l'uomo avrebbe fornito false attestazioni circa il suo stato di residenza sul territorio italiano. Sono stati i carabinieri di Monterchi a scovarlo. Gli accertamenti svolti unitamente al nucleo dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Arezzo hanno fatto il resto. Quest'ultimo episodio si aggiunge alla lista di quelli che i carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno scoperto e denunciato nel 2022. Sono ben 18 i soggetti indagati per aver beneficiato illecitamente dell'erogazione del sussidio che avevano letteralmente fatto carte false per ottenerlo. E adesso parliamo della carenza del personale in carcere. È importante la carenza di organico alla casa circondariale di Arezzo. Lo denuncia la CISL Aretina dopo la vicenda del ritrovamento da parte del personale del reparto di polizia penitenziaria del carcere aretino del telefonino destinato ad un detenuto che poi è stato denunciato la CISL di Arezzo prende posizione circa l'operato della polizia penitenziaria Aretina. La carenza segnalata è di oltre il 20% del personale rispetto alla pianta organica. Basterebbe così poco per far migliorare i piccoli reparti come quello di Arezzo con l'integrazione di poche unità ma spesso vengono dimenticate nelle assegnazioni di nuove assunzioni proprio perché considerati piccoli. È questo quello che dicono e confermano i rappresentanti della CISL. E adesso andiamo in Val di Chiana. È stata inaugurata questa mattina la nuova scuola Umberto Morra a Camucia. Una festa con il coro dei bambini. Vediamo il servizio. Produce da sola l'energia che le serve per riscaldarsi. Ha i più alti standard di accessibilità e di antisismica. La nuova scuola primaria di Cortona in piazza Chateau Chinon è oggi realtà. Arriva dopo una lunga e importante gestazione. Circa 4 milioni di euro il costo complessivo del progetto tra fondi statali e del comune di Cortona. Aprire una scuola è sempre una grande emozione. Per correttezza dobbiamo ricordare che questo cantiere è stato iniziato dalla precedente amministrazione ma che tuttavia per continuità amministrativa appunto noi con serietà e anche impegno abbiamo portato avanti e con tanta fatica perché siamo ricaduti purtroppo sul periodo Covid e quindi con cantiere in difficoltà, con aumento prezzi e quant'altro. Tuttavia la scuola oggi è finita, la inauguriamo. È una grande emozione perché inaugurare una nuova scuola è sempre qualcosa di importante per un territorio. I lavori sono stati ultimati a fine novembre e dal 9 gennaio i ragazzi hanno fatto ingresso nella nuova struttura. 8 le classi che vi trovano casa con oltre 150 bambine e bambini. Sicuramente è una festa per i bambini in particolare perché i ragazzi hanno diritto a stare in strutture adeguate non solo sicure ma anche belle e funzionali e quindi le amministrazioni che in modo lungimirante riescono a gestire questo tipo di aspetto devono avere sicuramente un applauso da parte dell'amministrazione scolastica. È una soddisfazione grandissima, una tappa importante per la scuola della città e un evento che dal nostro punto di vista risolve delle questioni di carattere logistico non solo ma dà anche l'input per uno sviluppo dell'offerta formativa e per un rilancio dell'attività didattica in generale e scolastica anche senza insolato. Questo plesso è particolarmente vocato agli orti quindi potrà essere sviluppato a questa parte e all'interno anche spazi adeguati per l'attività di motoria e quant'altro. C'è anche un grande atrio utilissimo per le attività di teatro, per l'attività della band musicale quindi insomma ci dà una grandissima mano da questo punto di vista. Non solo scuola ma anche un luogo per eventi e incontri grazie ad un auditorium in cui si può accedere in maniera indipendente. L'obiettivo è anche quello di offrire un luogo di aggregazione che migliori la realtà socio-culturale del grande centro urbano cortonese. Ma per l'area bollono in pentola anche altri progetti. A fianco a questa scuola verrà costruita breve anche l'asilo Nido Nuovo con un PNRR già acquisito di 2.160.000 euro una zona sportiva che sta per essere ampiata quindi diciamo che questo contesto di Camuscia sta prendendo davvero il volo. La mia scuola è speciale Te la posso disegnare Ci vorrebbe un cuore grande come il cielo E restiamo in Valdichiana perché oggi la città di Castiglione Fiorentino ha ricordato il grande campione Fabrizio Meoni a 18 anni dalla sua scomparsa durante la Dakar. Lo ha fatto insieme al figlio Gioele il sindaco Mario Agnelli deponendo un mazzo di fiori alla statua che si trova nella rotonda a lungo la SSR 71 che lo raffigura in sella alla sua moto. Nonostante quasi 20 anni da quel tragico incidente il centauro castiglionese è ancora presente nei cuori e nella mente dei castiglionesi, dei motociclisti e di tutte le persone che lo hanno conosciuto in vita. Questo pomeriggio poi alle 18 è stata celebrata una santa messa in suffragio al santuario della Madonna del Rivaio. E adesso torniamo ad Arezzo al via il corso di educazione alla sicurezza stradale per i cittadini extracomunitari. Vediamo il servizio di Chiara Sadotti. Torna ad Arezzo il corso di educazione stradale rivolto agli stranieri. L'obiettivo è quello di dare nozioni utili a comprendere la terminologia e il lessico e le regole utilizzate durante la guida. L'ambito della sicurezza stradale è un ambito molto delicato visto gli innumerevoli incidenti che sono avvenuti anche proprio ultimamente. Quindi questo corso di educazione stradale per i cittadini extracomunitari a mio avviso è molto importante. È importante perché sarà sicuramente a tutela della sicurezza di tutti quanti. Il corso di sicurezza stradale si articolerà nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per un totale di 30 ore. Si terrà in presenza presso l'Istituto Buonarrotifo Sombroni. Noi si cerca con i corsi di dare degli insegnamenti a cittadini straniere nella conversione delle patenti d'origine affinché vengono spiegate in maniera corretta le norme di comportamento del codice della strada dando degli insegnamenti riguardanti la conduzione dei veicoli quindi per veicoli si intende dai velocipiti fino a veicoli a motore quindi autovetture e autocarri. Fondamentale il contributo della Polizia Municipale di Arezzo che oltre ad essere presente durante i corsi con agenti scelti fornirà anche tutti gli elementi per assimilare presto e bene i comportamenti che devono essere tenuti sulla strada. La nostra è un'attività proprio a tutto tondo durante tutto l'anno e coinvolge anche adulti e studenti delle superiori che magari sono quelli più interessati agli incidenti e all'infortunistica stradale. A coordinare il progetto il CIPIA di Arezzo. Questo è un ambito particolare e che rientra in quella che è l'educazione civica perché appunto l'educazione civica ormai è diventata un argomento trasversale a tutte le discipline quindi anche nella nostra scuola si fa educazione civica per 33 ore settimanali e sicuramente questo progetto di educazione stradale si va a integrare bene con questo percorso perché l'educazione civica è alla base del vivere civile quindi insomma per avere dei buoni studenti bisogna avere prima dei buoni cittadini. Cosa sta facendo la regione per limitare il quotidiano calvario dei pendolari del Val d'Arno e di Arezzo? Se lo chiede Fratelli d'Italia che annuncia di voler presentare una mozione alla giunta regionale. Da mesi continuiamo a ricevere segnalazioni e lamentele dai pendolari spiegano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri e Alessandro Capecchi che denunciano pesanti disservizi ferroviari e per la condizione disastrosa in cui versa la tratta da e per Firenze. Chiederemo spiegazioni a RFI e Trenitalia che il 25 gennaio verranno ascoltate in commissione trasporti. Il consorzio di bonifica individua un'opera parzialmente crollata e la ricostruisce con un intervento di manutenzione ordinaria che migliora la sicurezza idraulica dell'abitato. Siamo sul Fosso del Chiasso nel comune di Castel Focognano ai margini dell'abitato. Il problema è stato individuato dai tecnici del consorzio di bonifica 2 Alto Val d'Arno attraverso la normale attività di vigilanza svolta sul territorio proprio per controllare la funzionalità del reticolo idrografico in gestione. Con un rapido intervento la criticità è stata risolta. La briglia malandata raggiunta da uomini e mezzi percorrendo la viabilità di servizio senza passare per il centro del paese è stata dunque sottoposta a manutenzione ordinaria. E adesso la pagina sportiva con l'Arezzo calcio in primo piano perché l'Arezzo esce sconfitto dalla Coppa Italia al comunale vince il Pineto 2 a 1. Vediamo il servizio. Mister Paolo Vendiani, la prima parola che mi viene in mente è peccato. Tre volte peccato. Tre volte peccato perché almeno a rigore ci piaceva giovarcela. lasciando a parte che mi ritroviamo ad andare in vantaggio in numeri coricolti. La prima mezz'ora di tempo deve chiudere la partita. Se non fai gol in una mezz'ora fatta bene in quel modo poi lei prende una ripartenza di genere a tempo scaduto. Peccato, peccato davvero. Nel primo tempo abbiamo subito un po' troppo i nostri avversari però nel secondo tempo l'Arezzo ha veramente ingranato un'altra marcia. Ma no, fino al gol le hanno fatto loro. Anche lì su una ripartenza abbiamo giocato solo noi anche colpendo un palo e giovando noi. Poi dopo il gol un po' però... Cioè alla fine del primo tempo il pali ci stava. Alla prima mezz'ora del secondo tempo dovevamo andare in vantaggio noi. Senza ombra di dubbio. Adesso un po' a parte l'amarezza di questa eliminazione c'è da concentrarsi veramente sul campionato. Domenica ci sarà una trasferta molto molto importante. Certo, come dicevo prima, la Coppa era una soddisfazione. Era bello andare avanti perché giochiamo sempre per vincere però la Coppa non ti importa niente. L'obiettivo è l'altro campionato. Ecco, se dovevo perdere una partita del genere è meglio averla persa in Coppa in campionato. Speriamo di non perdere più un campionato. Ai nostri microfoni l'allenatore del Pineto, Daniele Amaolo. Allora, partita risolta all'ultimo secondo però la sua squadra diciamo che ha disputato un ottimo match. Sicuramente è un'analisi perfetta. Abbiamo avuto un approccio giusto alla gara. Nel primo tempo, oltre ad essere passati in vantaggio abbiamo avuto 3-4 situazioni favorevoli a campo aperto e potevamo sfruttarle meglio. Poi è venuta questa giocata di Settembrini nel calcio piazzato e sicuramente il pareggio in quel momento ci stava un po' stretto per quanto riguarda la prima parte di gara. Nel secondo tempo, la prima mezz'ora, sicuramente, l'Arezzo è stato superiore. Avrebbe meritato anche il gol. Abbiamo tenuto forte e abbiamo sofferto più che altro. Poi con l'ingresso di qualche giocatore offensivo e fresco come Maio e Emili, siamo riusciti a ripartire e avere due e tre istituzioni importanti per passare anche in vantaggio noi nei minuti finali. Poi c'è stata questa giocata di Brachini che ci ha dato questa vittoria importante e il pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto però magari alla fine ci abbiamo creduto fino all'ultimo secondo e siamo stati premiati su una partita di sacrificio. E adesso ascoltiamo le parole di Guglielmo Manzo, presidente del Arezzo, che ha preso in gestione il campo di Rigutino. Ascoltiamolo ai microfoni di Massimo Gianni. Siamo in compagnia del presidente del Arezzo, Guglielmo Manzo. Ci sono importanti novità dal punto di vista strutturale. L'Arezzo ha preso in gestione per dieci anni il campo di Rigutino. È un passo in avanti molto importante. Beh, assolutamente sì. Erano mesi che con il Comune dialogavamo per questa segnazione e finalmente siamo riusciti a avere l'assegnazione. Adesso nascerà la nuova Academy dell'Arezzo Calcio che permetterà alla prima squadra di potersi allenare a Rigutino più alcune squadre del settore giovanile verranno trasferite su Rigutino e quindi faremo una struttura che permetterà di poter evitare i famosi viaggi che dicevo l'altra volta avanti e indietro fino alle caselle. Quindi ampliamo i nostri centri sportivi e permetteremo alla città di avere più disponibilità per poter far giocare i ragazzi. Stiamo parlando di un investimento molto importante, 60.000 euro che faranno fare anche dal punto di vista tecnico un passo in avanti all'Arezzo. Beh, assolutamente sì. L'Arezzo già ha investito e sta investendo molto sia sulle caselle e una parte sullo stadio. Lì investiremo 60.000 euro per riqualificare tutta l'area. Oltretutto c'è anche da considerare che è un'area particolarmente popolosa dell'Aretino quindi ci teniamo in maniera particolare. Sta a due passi dal nostro hotel che ci permetterà anche di semplificare le operazioni della prima squadra e sono convinto che avremo una bella risposta quando faremo gli Open Day a giugno per reclutare il più possibile i ragazzi di Arezzo. C'è da vincere questo campionato, mi raccomando. E questo tanto da me non lo sentirà mai dire quindi comunque la cosa è certa. Tutti ci auguriamo nell'anno del centenario di riuscire a fare questo salto benedetto che ci sta martoriando ormai da due anni però siamo sulla strada giusta e abbiamo gli uomini giusti al comando per poterlo fare. L'ultima domanda gliela faccio su questo stadio. C'è un po' un sogno nel cassetto che lei ha tirato fuori in diverse circostanze. Insomma un giorno potrebbe diventare di proprietà dell'Arezzo e diventare uno stadio nuovo? Noi l'abbiamo dimostrato, siamo venuti ad Arezzo per cercare di fare un progetto estremamente serio. Come tutti i progetti che parti da zero hai degli intoppi e inevitabilmente poi devi risanare e partire. Abbiamo sanato un club, il club adesso è uno dei club più sani del panorama calcistico italiano e sicuramente lo stadio è fondamentale per un club dove uno stadio deve diventare un'aggregazione dove si può portare le famiglie non soltanto a vedere la partita ma a fare tutta una serie di attività. Ne abbiamo già parlato con il comune, con l'assessore Scapecchia, abbiamo fatto una bella riunione aperta abbiamo dimostrato, spiegato a lui cosa ci piacerebbe fare. Ovviamente tra dire fare c'è di mezzo il mare e vedremo cosa riusciremo a portare a casa ma il sogno c'è e probabilmente col tempo riusciremo a realizzarlo. E con questo è davvero tutto per la nostra informazione. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Arrivederci.